Ciao a tutti, io sono Anbu ed eccoci oggi qui in questo primo episodio di oggi giochiamo a una rubrica gestita da me dove non andremo a vedere i tipici giochi mainstream ma tutti quei giochi che meritano il loro spazio. Ovviamente ci sarà qualche eccezione per qualche titolo particolare che potrà essere un po' più conosciuto e quello un po' meno conosciuto però spero che tutti vi piaceranno diciamo questi titoli e vi faranno magari venire la voglia di provare il gioco. Ma non perdiamo troppo tempo e partiamo subito col primo gioco The World Z. World Z è un gioco sviluppato da Hammerpoint Interactive, un survival MMO basato sugli zombie. Al momento è ancora in fase alfa ma devo dire che riesce già a farmi divertire per ore e ore in compagnia dei miei amici sopravvissuti all'apocalisse come Azoto e tutti gli altri che avrete sicuramente avuto modo di vedere se avete seguito le nostre stream di questo gioco in questi giorni. In questo video non sarà presente molto per quanto riguarda il gameplay se non una piccola parte verso la fine del video. Dato che c'è davvero tanto di cui parlare per quanto riguarda questo gioco e ho deciso invece di fare un video da 20 minuti che magari poteva annoiare di dividerlo in due parti più specifiche diciamo. Questa prima parte che riguarderà le principali informazioni del gioco e come si presenterà a noi il gioco a una prima installazione e la prossima puntata tratterà più quello che riguarda il gameplay effettivo invece all'interno di una nostra partita. Volevo inoltre avvisarvi che in caso questo gioco vi piaccia, vorreste vedere di più a riguardo, sarò felice di organizzare una mini serie su Jinba e magari, non lo so, chiamare qualcuno per provare a sopravvivere in questa apocalisse zombie. Ma non perdiamoci troppo in discussioni inutili e torniamo in tema. Come potete notare siamo nella schermata di selezione personaggio del mio account ma questa schermata direi di lasciarla per ultima al momento e di guardare prima il resto. Dopo sicuramente capirete il perché dato che questa schermata richiede davvero particolare attenzione. Passiamo quindi alla sezione marketplace dove come potete vedere sono presenti diversi oggetti, munizioni, cibo, acqua, protezioni e molte altre cose che hanno un costo. Queste cose possono essere comprate con soldi reali che sono appunto questi soldi che vedete gialli, oppure i soldi blu, che sono soldi che possiamo ottenere nel gioco uccidendo gli zombie. Li avremo sotto forma di drop o loot, che dir si voglia. Per ora questa è una delle poche cose a mio parere che potrebbe farci storcere il naso riguardo al gioco. Nel senso, quando ovviamente noi compriamo un gioco e iniziamo a giocarci e vediamo che c'è una sezione market con soldi veri, sempre pensiamo che potrebbe essere il tipico gioco pay to win. Al momento devo dire che durante questa fase alfa non si sta dimostrando un problema questo marketplace, anzi è, non dico inutile, però non ha una grande utilità al momento. Vedremo se con il passare del tempo, magari con l'arrivo della beta ufficiale che dovrebbe essere prevista verso fine novembre e con l'uscita del gioco completo che dovrebbe arrivare verso fine anno invece, questo marketplace cambierà la sua funzione e diventerà qualcosa che andrà a modificare totalmente il gioco. Io spero di no sinceramente, se voi volete darmi qualche parere siete appunto liberi di scriverlo per discuterne un po' nei commenti, ma al momento durante la fase alfa vi posso assicurare che il marketplace non cambia praticamente nulla all'interno del nostro gameplay. Qui invece siamo nella sezione community, che è ancora in fase di sviluppo, alla fine siamo in in un alfa ragazzi quindi è normale. Come potete vedere il gioco presenta diversi settaggi per renderlo abbastanza scalabile e permettere di giocare anche a chi non dispone di un grande pc. Nel caso non siate sicuri che il vostro pc possa reggere il gioco, gli sviluppatori hanno affermato che se riuscirete a giocare senza problemi al gioco gratuito The War Inc, di cui troverete il link in descrizione per eventualmente scaricarlo, non dovreste avere nessun problema a far girare War Z sul vostro pc. Quindi se desiderate giocare a questo gioco ma avete dei dubbi del tipo il mio pc riuscirà a reggere questo gioco o avrò dei problemi, semplicemente scaricate il gioco The War Inc che trovate in descrizione e potrete così testare se il vostro pc può reggere o meno War Z. E finalmente eccoci alla parte più importante diciamo di questo menu, di questa parte principale del gioco, la schermata dei Survivor. All'interno di questa schermata come potete notare a differenza di Day Z, che sicuramente tutti voi conoscerete è un gioco molto famoso, il nostro gioco presenta un aspetto che cambia totalmente il nostro gameplay, la presenza di 5 personaggi. Perché questo cambia molto? Su Day Z eravamo abituati ad usare un solo personaggio e nel caso in cui questo moriva perdevamo semplicemente tutto e magari delle volte, se noi giocavamo su dei server con amici o altri, se eravamo da soli eravamo poco invogliati diciamo a giocare per paura magari di perdere le nostre cose o simili. In questo caso, avendo a disposizione 5 personaggi da poter creare, questo eventuale problema non si pone, che poi magari nessuno se l'è mai posto, è una mia ipotesi, però questo problema non si pone e ci porta a poter giocare con magari più amici seguendo con un personaggio, una determinata persona, con un altro facendo i fatti nostri. Secondo me è davvero una buona cosa. E perché abbiamo a disposizione anche più slot? Perché a differenza di Day Z dove il personaggio era uno e non avevamo possibilità di modificarlo, in questo gioco avremo una maggior personalizzazione del personaggio, per quanto sempre a livello molto basilare. Come potete vedere io ora sto creando un nuovo survivor, che chiameremo in questo caso Ambus. Ah, come avrete potuto notare ho creato il soldato 418Y che non ha voluto per ora comprare questo gioco, però in suo onore ho tenuto bloccato il suo nome, come ho tenuto bloccato quello di Alato prima di lui. Ecco, qui abbiamo creato il nostro survivor, ora dobbiamo decidere il modello. Come vedete ci sono questi tre personaggi, Austin, Vincent e Michelle. Ne arriveranno anche molti altri nuovi. Al momento abbiamo a disposizione questi. Personalmente uso quasi sempre il primo settato in questo modo. Per quale motivo? Ovviamente è un gioco di sopravvivenza, il fatto di potersi mimetizzare all'interno dell'ambiente è una cosa che ci aiuterà molto a sopravvivere e sicuramente andando in giro con un personaggio tipo questo messo così non sarà sicuramente il massimo. È ovvio che appunto poi sta a ogni persona decidere come impostare il proprio personaggio, se puntare più all'aspetto esteriore o puntare più diciamo alla mimetica, se così si può dire. Una volta creato il nostro personaggio possiamo notare in questa parte destra che l'elemento MMO su questo gioco è davvero molto presente. Qui abbiamo l'esperienza del nostro survivor, il tempo che è sopravvissuto a questa apocalisse zombie, il numero di zombie uccisi, il numero di banditi uccisi, il numero di civili uccisi. Ovviamente uccidere un tot di civili ci porterà ad essere a nostra volta un bandito. Il nostro allineamento diciamo rispetto al gioco, neutrale appunto quando saremo dei buoni ragazzi che uccidono solo zombie per provare a salvare il mondo, oppure diventeremo dei banditi quando messi alle strette saremo costretti a uccidere dei civili oppure volontariamente li uccideremo. e esiste anche lo status di mega bandito quando uccideremo davvero tanti tanti civili. Mappa, come potete vedere, è colorado perché in questo gioco gli sviluppatori hanno intenzione di creare diverse mappe. Ho sentito ad esempio che un'idea è quella di creare la mappa di New York, una delle prossime da sviluppare, ma anche se al momento, essendo in alfa, ancora deve essere totalmente completata, quella di colorado, quindi evitiamo di pensare a queste nuove mappe al momento. Qui ci sono altri due tasti, il tasto dell'inventario e l'albero delle skill. L'albero delle skill al momento non è sbloccato ma si andrà ad aggiungere alla componente MMO di questo gioco che vuole fare davvero risaltare molto, a differenza di un dei zii che era sicuramente molto simulativo. Prendeva sicuramente molto il giocatore per la simulazione al suo interno ma perdeva un po' il tratto dell'MMO diciamo. Questo invece punta molto di più sulla componente MMO. Infatti all'interno del gioco avremo anche delle, diciamo, missioni da portare a termine. Al momento non sono ancora totalmente sviluppate, sono in via di sviluppo, ma saranno disponibili tra un po' di tempo. L'inventario invece è un accesso, diciamo, a un inventario globale. Quando è possibile arrivare a questo inventario globale? Solo in determinate situazioni, cioè se saremo in una safe zone all'interno della mappa, ad esempio ora sono disponibili solo tre safe zone in tutta la mappa, oppure appena avremo creato un pg prima di entrare nel server, perché il nostro pg non avrà ancora una posizione specifica nel server, quindi se avremo portato qualcosa nel nostro inventario globale potremo darglielo tranquillamente. Qui, come potete vedere, c'è tutta la mia collezione di oggetti che ho fatto in queste settimane. Ed eccoci nell'ultimo punto da analizzare prima di partire con il nostro survivor all'interno di questo gioco. Il server browser, una cosa molto importante all'interno di un videogioco. Come potete vedere nella parte destra, la ricerca si può filtrare, diciamo, per server europei o server americani. Oltre ai filtri per regioni, sono presenti filtri per tipo di server e, ad esempio, le Stronghold sono una cosa non ancora presente, come potete vedere ora nel gioco. Cosa saranno queste Stronghold? Dei server privati dei giocatori con una mappa molto piccola in cui avranno accesso solo il giocatore stesso e eventualmente il suo clan, diciamo, il suo team. Sarà una mappa abbastanza ristretta dove le dinamiche saranno leggermente diverse rispetto alla mappa globale. Sarà come una piccola casetta personale dove addirittura potremo coltivare delle piante eccetera per poi vendere i vari frutti come cibo, acqua, eccetera eccetera. Ovviamente possiamo nascondere i server vuoti o pieni. Qui, come potete notare, ci sono ben 240 server al momento. Tutti i server ora come ora ospitano 40 persone. L'idea del team di sviluppo è di arrivare fino a 250 persone su ogni server. Sicuramente può sembrare una cosa un po' azzardata, però ora come ora i server da 40 persone non sembrano avere grandi problemi. Vedremo con il passare del tempo se arriveranno a queste 250 persone. Come potete vedere esiste un sistema di server recenti in cui siamo entrati, server favoriti che possiamo selezionare tranquillamente cliccando su questo cuoricino. Ecco qui. Così aggiungiamo direttamente i server ai favoriti. Sono sicuro che questo gioco vi piacerà tantissimo e vi potrà far perdere le peggiore divertendovi con i vostri amici. Per quello che costa ora come ora è sicuramente un affare. Inoltre il team di sviluppo sta lavorando molto, si sta impegnando molto per tenerlo sempre patchato e aggiornato. Più o meno ogni 2-3 giorni al massimo esce una patch che magari non risolve chissà quali problemi, però piano 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 anche i bug, i fix minori vengono sempre fatti. Quindi c'è molta speranza in questo gioco che diventi qualcosa di molto figo, diciamo, qualcosa di bello da giocare. Io spero che questo primo video di questa serie vi sia piaciuto. Come vi ho spiegato ci sarà un secondo video sempre su War Z. Non so se sarà il prossimo o il terzo di questa serie, devo ancora decidere perché ho un giocone, ragazzi, da parte che non vi posso anticipare ma è una cosa stupenda. Non vi spoilerò niente perché se no andate subito a cercare. Vi dico solo che è qualcosa di stupendo, fidatevi di me. E che dire, io vi chiedo come sempre se il video vi è piaciuto, la serie vi interessa o se anzi volete eventuali video di War Z all'esterno di questa serie, quindi oltre al prossimo video che tratterà il gameplay, come è costituito, eccetera. Se volete vedere una serie di War Z all'interno del canale dove magari giochiamo io e qualcun altro, vuoi che sia un Lego, vuoi che sia un Azoto o qualcuno, vedremo chi avrà la possibilità di giocare. Fatelo sapere un po' nei commenti così potremo organizzarci. Ovviamente c'è molto di cui parlare di questo gioco e io non ho potuto trattare tutto all'interno del video, perciò se avete qualche domanda o volete discutere di qualcosa non preoccupatevi a scriverlo in un commento, vedrò di rispondervi al più presto per poter appunto continuare la nostra discussione all'esterno del video, diciamo. E con questo chiudo ragazzi, se il video appunto vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e come direbbe il Capitano Alberto, ciao 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 ciao!